La prestazione convincente di domenica scorsa, dove è mancato solo il gol, è di buono ospicio per il Sulmona che si appresta alla trasferta molisana contro l'Olimpia agnonese, valida per la seconda di ritorno del girone F della Serie D. All'andata all'Angelini di Chieti finì 1-1 con rete di Ceccarelli per i Biancorossi. Fu il primo dei tre pareggi consecutivi che non riuscivano a far decollare la squadra. Ora la situazione presenta il Sulmona alla ricerca di punti necessari per la permanenza nella categoria. Quello contro l'agnonese è un altro scontro salvezza per i ragazzi di Pasquale Luiso. Spazio alla politica dei giovani. Sono stati tesserati altri 4 under. I centrocampisti Simone Amedoro, classe 94, originario di Scafa, in prestito dall'Avellino. E Giuseppe Petrigni, classe 95, proveniente dal Boiano. Il terzino sinistro Giovanni Pezzullo, classe 94, in prestito dalla Casertana e proveniente dalla squadra salernitana del Gelbison di Serie D, dove nel girone di andata di questa stagione ha giocato titolare. La punta Leonardo Tagliano, classe 95, in prestito dal Cosenza, dove ha militato nella Berretti e nelle ultime tre stagioni nel settore giovanile del Torino. Tre di loro dovrebbero andare in panchina, mentre potrebbe sordire dall'inizio Pezzullo nel 4-4-2 di Luiso. Questa la probabile formazione. Meo tra i pali. In difesa Scuocca a destra, Pezzullo a sinistra, Fraghie e Diciccio centrali. A centrocampo Cavasini a destra, Bernardo a sinistra, Lorenzetti e spadare i centrali. In attacco Magaddino e Simeoli. Assente per infortunio il centrocampista Sorrentino. Giocherà in posizione più avanzata Cavasini ed in avanti Simeoli, che non è una punta di ruolo, sarà affiancato da Magaddino. Dopo aver tastato il polso della situazione, Pasquale Luiso ha adoperato degli aggiustamenti al fine di dare la perfetta inquadratura. L'Olimpia agnonese, reduce dalla sconfitta di Pesaro, cercherà di fare risultato in casa. Nei molisani milita l'ex ovidiano Vittorio Esposito, che va a comporre il tridente offensivo insieme a Di Benedetto e Troccoli nel 4-1-2-3 disegnato dal tecnico Corrado Urbano. Portare a casa un risultato positivo per i biancorossi significherebbe molto, in considerazione della vittoria a tavolino che potrebbe arrivare dopo il ricorso presentato in seguito alla gara contro l'Isernia.